La fine è diventata una spredita giornata E che non guasta insomma Sono nel punto dove ho fatto il video Il primo video L'ho fatto da là Scendendo giù Facendo il video a questa chiesa qua Però oggi era troppo bello da non fare Guardate che roba qua Che panorama Guardate questo pezzo qui Sarà già videocamera con due dita C'è ora i sensi dei ragni Non so Bello 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 E poi lì ci stanno Forse facciamo un'altra ripresa Sta una specie di quartiere generale Dell'esercito reggio Tanto tempo fa Non lo so Lo vediamo Grazie a tutti